La solidarietà che fiorisce nelle nostre comunità è una preziosa occasione di animazione alla pace, ma anche di gesti concreti di sostegno e vicinanza. Così Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano all'Oionio, durante la messa in cena a domini nella Basilica Minore della Città delle Terme, che quest'anno ha scelto per il rito della lavanda dei piedi famiglie ucraine, ospiti nei comuni e assistite dalla Caritas Diocesana, 50 famiglie che sono scappate dalla guerra. Diciamo subito che viviamo una Pasqua un po' insanguinata, andrei una Pasqua insanguinata a causa di questa folle, crudele, insensata, Paolo Francesco l'ha chiamata un sacrilegio nei confronti di Dio, questa guerra tra la Russia e l'Ucraina. Non dimendichiamo anche tanti altri conflitti che ci sono nel mondo, conflitti dimenticati. Io questa sera, dal momento che abbiamo già accolto parecchi nuclei familiari in Diocesi, ho pensato qui in cattedrale di lavare i piedi a delle famiglie ucraine con dei bambini. Che cosa significa questo gesto, così riattualizzato nella nostra disponibilità ad accogliere i nostri fratelli e sorelle dell'Ucraina? Significa che noi, come Chiesa locale, ci dichiaramo, come l'hanno fatto con i fratelli immigrati, che scappavano e scappano dalla fame e dalle guerre, che noi come Chiesa siamo una Chiesa inclusiva, dove il paradigma del nostro essere Chiesa include, non esclude nessuno, e soprattutto noi siamo dalla parte delle periferie geografiche ed esistenziali, perché è proprio delle periferie che si fa l'esperienza dell'incontro con Cristo, crocifisso e risorto. Vorrei essere un applauso di incoraggiamento, di consolazione, di pace.